wow c'è così tanta roba abbiamo molto tra cui scegliere che cosa sta cercando computer pneumatici microfono sì è l'ultimo modello può incartarlo come un regalo qualcos'altro per te lo stereo e la cassetta degli attrezzi ottima scelta piacerà sicuramente allo sceriffo che suono fantastico mcqueen ama la musica i tuoi regali sono incartati sono 250 monete 100 150 250 stai attento dicono che oggi è ghiacciato grazie mille non si può passare mater vado di fretta scusa sto per cadere quasi quasi oh no 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 sceriffo aiutami è troppo alto è tutta colpa mia scusa mater mcqueen puoi tirarmi fuori di qui penserò a qualcosa aspetta che è successo sceriffo il ponte è rotto non arriverò alla festa ho trovato una corda sei così pesante gettaci la corda siamo in due qui esatto prendi presa continua a attirare un po' di più si grazie amici cosa facciamo per il ponte ho già chiamato la squadra dei lavoratori stradali saranno qui a minuti tutto fatto amici ho qualcosa per voi amo le sorprese venite qua venite qua amici questi sono per voi questi sono per voi wow non ci credo uno stereo un microfono amo cantare e io avevo bisogno di nuovi strumenti sono così felice che ti siano piaciuti mater questo è per te un nuovo cric il mio si è appena rotto grazie evviva evviva ahhh ahhh